E' stata una domenica di festa a ritmo di pedale per le quartiere di Muraglia. Adulti, giovani e giovanissimi in mountain bike hanno solcato per la prima volta la nuova pista di Trail Park che ha riqualificato in senso sportivo uno spazio negli ultimi anni trascurato come quello compreso fra Piazza Alfieri, Via Riosto e Via Petrarca. Per il comune è stato un intervento da 50.000 euro che dopo Pasqua sarà completato dalla riqualificazione dell'annessa pista da skateboard. Un progetto a basso impatto ambientale che arriva ad un taglio del nastro dopo la raccolta di firme di quartiere che aggiunge dunque un altro tassello alla filosofia bike dopo la pista di pump track realizzata in via dell'Acquedotto. Siamo orgogliosi di portare a compimento quello che era un progetto sollecitato da diversi anni dal quartiere. C'era stata una raccolta firme che è stata portata sulla scrivania dell'amministrazione comunale e l'abbiamo fatto a nostra. Un progetto che ha visto il coinvolgimento non solo del quartiere ma dei residenti e di tante realtà sportive. Questo è un luogo che era giusto farlo rivivere. C'era un centro di aggregazione che si chiamava Calamita e abbiamo deciso di intitolare questo trail park, trail park Calamita. Il centro Calamita era un centro di ritrovo per tanti giovani, era un punto di riferimento per le generazioni che come me sono diventate grandi. Quindi sono orgogliosa di vedere tanti ragazzi che stanno popolando questo bellissimo luogo verde perché ripeto è un progetto green.